la musica stasera perché c'è musica anche nel piccolo attrante storico dei centri sociali né io né Calia né Temo Zero Calcare siamo praticamente dei veri esperti musicali quindi ci sono pochi pezzi in questo libro di Calia ma quelli che ci sono hanno certamente fatto la storia dei centri sociali e dei movimenti di disobbedienza civile di opposizione in Italia a rieseguirli dal vivo con noi l'acoustic connection che è un ensemble di musicisti di formazione classica e folk diretti da Roberto Durante che ci accompagneranno anche credo da quello che leggo con dispositivi di interazione con lo spazio e con il pubblico durante questo nostro collegamento dalla loggia dei cavalieri e partiamo con il pezzo più noto e che a me sta particolarmente a cuore poi è bello che si inizi con Napoli sotto la loggia dei cavalieri e quindi cominciamo con cur cur guaglio 99 post l'acoustic connection Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.